ma per caso ho sceso nessun mercato oppure la juventus sta prendendo il vice per in magari per in non hanno in prestito oppure vuole giocare di più se ne va cioè perché dobbiamo andare a prendere sto portiere qua perché la juve cerca un portiere mia domanda ciasmi sembra che hanno confermato per in sta bene la juve pinzoglio una vita da pinzoglio pinzoglio non andrebbe via dalla juve nemmeno pure se non lo devo più pagare paga lui alla juve pur di rimanere la juve quindi non capisco perché hanno accostato ducaco alla juve oggi in inghilterra su sky su sky england ha mangiato sta notizia in italia qualcuno sta scrivendo scesni penso che non è nessun mercato come ho detto prima per in sta bene la juve pinzoglio non ne parliamo a che cazzo servano sto ducaco giuntoli sicuramente è uno che di calcio ne capisce e farà sicuramente un buon lavoro ma giuntoli deve cercare di prendere dei terzini dei centrocampisti un attaccante se parte vlaovic ma a portieri noi stiamo bene quindi non vedo perché è uscita sta notizia qua forse io lo so il perché è uscita sta notizia qua perché adesso in italia diranno che l'inter è riuscito a prendere lukaku dal celsi anticipato la juve che lo voleva e passerà come un'altra operazione big di marotta che lukaku non lo vogliono più al celsi piuttosto lo rega ma non lo vogliono più perché hanno capito quello è un mezzo giocatore quindi tutta sta teatrina attorno a lukaku comunque ripeto la juve portieri sta bene credo che lukaku non serve un abbraccio e buon sabato sera